Sì, la rotatoria di Paperina di fatto è la porta d'ingresso del capoluogo di Terranuova, quindi è oggettivamente uno dei luoghi per la viabilità più frequentati sia da parte dei nostri cittadini, sia per coloro che vengono a Terranuova per altre ragioni o sono di passaggio. Ci sembra utile funzionare e riqualificarla da un punto di vista estetico e ambientale, pertanto abbiamo deciso di dar vita a un concorso di progettazione e si svolgerà in due fasi. Una, la prima, è il 27 febbraio nella quale i diversi studi che hanno i requisiti per partecipare e che sono pubblicamente invitati a farlo ci forniranno delle idee progettuali. Dopodiché verranno selezionate 5 proposte, 5 idee e i 5 soggetti verranno invitati sostanzialmente ad affinare la loro proposta progettuale perché poi chi vincerà questo concorso di progettazione riceverà un premio che è di circa 3.700 euro ma che non si riduce exclusivamente ad essere un premio ma è anche in qualche misura il corrispettivo per lo studio di fattibilità tecnico-economica che il vincitore dovrà fornire all'amministrazione. Quindi sarà possibile anche per la cittadinanza seguire le diverse fasi che pubblicizzeremo in modo tale anche da avere contezza di quelle che sono le proposte che l'amministrazione ha ricevuto e che verranno valutate da un'apposita commissione interna in modo tale poi da divenire effettivamente a un intervento che verrà realizzato successivamente.